è un film in piena, è un film in piena abbiamo chiesto di un bel servizio che è proprio raccontato con due viste di particolari si può chiamare Donatella allora, no, non stai dicendo che stai lavorando anche al primo anno è un approccio che tra l'altro mi piace molto dire sì, lo faccio parliamoci di un concerto quest'anno si chiamava 30 anni da Leone è davvero un concerto pesante perché non è solo la cantante che sta davanti al microfono ferma che fa tre fatti da una parte tre fatti da una parte io canto, se volgo il fuoco mi portarlo, mi scato, mi ritrova la balto come si dice il Veneto mi ritrova due figli ogni sera meno e poi uno, dopo le due ore di concerto beh, dico se uno vuole avere i miei fanci come fare i nuovi cittadini di un'altra parte ma tu mi chiedi durante il tempo che fa il tuo ruolo di discorso sicuramente è l'ultimo discorso non ci vuole vedere che fa voglio che sia il mio migliore ma perché voglio lasciare il mio migliore ma perché voglio lasciare il mio migliore